L'occhio dominante è praticamente l'occhio che guida il fucile, l'occhio che noi posizioniamo sopra il nasello, sopra il calcio che va imbracciato, quindi si chiude e poi il volto si appoggia in questa parte che si chiama nasello, una volta che noi appoggiamo lo zigomo ci dà la direzionalità rispetto alla canna, quindi il nostro occhio corre lungo la canna, l'occhio destro per un destro, l'occhio sinistro chiaramente per chi imbraccia a sinistra, l'occhio dominante è quello che guiderà quest'arma sul bersaglio. L'occhio dominante è quell'occhio con cui si mira, tutti hanno un occhio dominante, ognuno di noi ha un occhio dominante, o il destro o il sinistro, in genere si verifica che ha un mancino all'occhio predominante sinistro e un destro all'occhio predominante destro, però non sempre si verifica questo, qualche volta si verifica che è opposto, tu sei destro, è l'occhio predominante sinistro o viceversa. Formando un cerchio con le proprie dita e poi inquadrando un punto fisso circa 10 metri, chiudendo un occhio o chiudendo l'altro noi vediamo che il punto da noi prefissato con questo cerchio si sposta, se rimane fermo chiudendo l'occhio sinistro l'occhio dominante è il destro. Inverso, se l'occhio si sposta, l'occhio dominante è il sinistro. È molto importante poter utilizzare entrambi gli occhi per poter praticare lo sport del tiravolo. L'utilizzo di un semplice occhio che è causato dal problema dell'occhio dominante inverso e quindi essere chiuso con un semplice cerotto nell'occhiale, questa cosa qui impiederebbe al tiratore di identificare la profondità stessa del bersaglio, nonché precludere la visione di una parte importante del campo visivo. È importante avere, se sei un tiratore destro, l'occhio dominante destro. Questo ti permette di avere a fucile imbracciato una perfetta linea di mira. Avere l'occhio sinistro dominante sempre con un tiratore destro comporta molti problemi. Se una persona è destra e una volta imbracciato il fucile ha come predominanza l'occhio sinistro, è ovvio che la direzionalità delle canne sarà sfalsata rispetto a quella che ci sarebbe se invece fosse dominante destro, perché guiderà il fucile con l'occhio sinistro, solo che la canna si trova un po' più distante, perché si trova sotto l'occhio destro. E quindi ci sarà questo grande problema che può essere risolto in tanti modi, per esempio chiudendo con una leggera benda l'occhio sinistro, pur mantenendo gli occhi aperti per impedire che interferisca nella dominanza, oppure alzando leggermente la mano sinistra sull'asta per impedire che l'occhio sinistro in qualche modo interferisca sulla guida del fucile.